amici carissimi di auto occasioni ben ritrovati in nostra compagnia oggi sono venuta per voi nella concessionaria logica kia in piazza aderna e sono in compagnia di davide marano ciao a tutti voi davide tu devi sapere che io questa concessionaria ce l'ho particolarmente a cuore perché non so se tu ricordi o magari i nostri amici ricordano che io qui girai la mia prima puntata è vero ben tre anni fa esatto ottima memoria e da lì poi tutto un percorso un cammino anche voi siete cresciuti tanto siamo arrivati davvero a 2000 metri quadri di occasioni e una delle ragioni per cui vi amiamo così tanto e anche perché oggi giocate al raddoppio ben detto fede guarda raddoppiamo la rottamazione se lo stato ci può dare fino a 3000 euro di scontro rottamazione su determinate vetture in pronta consegna chia logica arriva fino a 6000 euro di rottamazione oggi partiamo con il nuovo quali sono le promozioni proprio quelle irresistibili che non possiamo lasciarci perdere tantissime offerte ricordiamo sulla picanto disponibile in pronta consegna sia benzina che gpl che anche lei rientra nell'offerta rottamazione statale stonic disponibile anche lei in pronta consegna benzina gpl tantissime sportage gpl in pronta consegna sempre con sette anni di garanzia è un pezzo forte proprio di questa concessionaria è anche tutto il reparto sottostante dedicato alle occasioni alle auto usate aziendali o a chilometri zero quindi a questo punto so che tu hai pensato delle cose straordinarie per noi ti seguiamo ben detto federica andiamo sotto e andiamo a vedere tutte le offerte e partiamo con la nostra vettura chilometri zero kia eniro totalmente elettrica 200 cavalli macchina immatricolata aprile 2023 prezzo 45.900 euro vettura introvabile sul mercato dell'usato kia sportage allestimento black edition 1.6 turbodiesel anno 2021 chilometri solamente 42.000 prezzo 22.900 euro e continuiamo col marchio kia sempre vetture usate kia eniro 1.6 benzina cambio automatico anno 2021 chilometri solamente 54.000 prezzo 21.900 euro xid gpl mille turbo benzina 115 cavalli anno 2022 chilometri solamente 40.000 prezzo 20.900 euro kia exid 1.4 turbobenzina allestimento style anno 2021 chilometri solamente 58.000 prezzo 18.900 euro renault clio mille turbo benzina gpl vettura fatturabile con live esposta anno 2021 prezzo 14.500 euro e continuiamo con la fantastica 500 x anche lei 1.4 turbobenzina gpl anno 2018 chilometri 80.000 prezzo 15.500 euro jeep compass 1.6 turbodiesel allestimento sport anno 2019 chilometri solamente 84.000 prezzo 17.900 euro drf 35 motore benzina gpl anno 2020 chilometri 77.000 prezzo 19.500 euro kia proceed 1.5 turbobenzina cambio automatico dct anno 2021 chilometri solamente 33.000 prezzo 28.900 euro kia exid 1.6 turbodiesel anno 2021 chilometri solamente 52.000 prezzo 19.350 euro ford ecosport 1000 ecoboost anno 2019 chilometri 57.000 prezzo 13.900 euro volkswagen polo 1000 benzina 75 cavalli anno 2018 chilometri solamente 72.000 prezzo 12.900 euro opel grandland x 1.5 turbodiesel cambio automatico 130 cavalli prezzo 18.900 euro volkswagen t-cross 1.6 turbodiesel allestimento style 95 sono i cavalli anno 2019 chilometri solamente 33.000 prezzo 19.900 euro smart fortune mille benzina anno 2018 chilometri 60.000 prezzo 13.900 euro vettura full optional kia exid 1.6 turbodiesel cambio automatico allestimento evolution anno 2022 prezzo 25.900 euro jeep compass 1.6 turbodiesel allestimento limited 120 cavalli chilometri 36.000 prezzo 25.900 euro ideale per la famiglia station wagon ford 1.5 turbodiesel 120 cavalli cambio automatico allestimento st line chilometri 50.000 prezzo 20.900 euro vettura super economica fiat tipo 1.4 benzina gpl anno 2017 chilometri 82.000 prezzo 9.900 euro vettura full optional hyundai kona 1.6 ibrida allestimento x line 141 sono i cavalli anno 2021 chilometri 39.000 prezzo 21.900 euro hyundai ionic 1.6 allestimento comfort motorizzazione plug in 141 cavalli cambio automatico prezzo 17.900 euro andiamo con una hyundai i10 mille benzina allestimento tech anno 2018 chilometri solamente 50.000 prezzo 9.900 euro tante promozioni vere e davvero da prendere al volo ben detto federica ricordiamo anche gli altri indirizzi borgolo tolinese via lanzo 29 biella via repubblica 60 dove troverete tutte le offerte che abbiamo visto oggi qui e in tutte le sedi troviamo la formula free 96 vero ben detto free 96 la troviamo sia borgolo che a biella che a torino ricordiamo sempre costo di guida ogni comprensivo tagliandi gomme ogni tre anni cambia la vettura ma che meraviglia a questo punto vi aspettiamo scegliete la sede a voi più comoda venite a vedere con i vostri occhi e anche a provare su strada un saluto carissimo a questo punto da parte di logica kia di auto occasioni di davide e di federica ciao federica e ciao a tutti voi ciao a tutti Grazie.